Due fratelli e la moglie di uno di loro sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Arezzo perché trovati in possesso complessivamente di circa mezzo chilo di cocaina. Sì, è incredibile, una famiglia intera. È nato tutto da un intuito che ha avuto una pattuglia della Polizia Stradale che ha notato dei movimenti strani in autostrada di un'autovettura, hanno chiamato in ausilio personale della squadra mobile. Tutto è partito nella tarda serata di venerdì quando gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle al casello A1 hanno notato un'auto che dopo essersi fermata prima di imboccare l'ingresso ha invertito la marcia. L'insolita manovra ha insospettito gli agenti che hanno raggiunto l'auto a bordo due fratelli di 33 e 37 anni. All'interno di un borsone sportivo che secondo i due doveva contenere l'occorrente per la palestra i poliziotti hanno ritrovato sei involucri di cellofan con all'interno cocaina per un peso complessivo di quasi 70 grammi. Con la collaborazione della squadra mobile della questura di Arezzo sono state perquisite anche le abitazioni. In una è stato ritrovato del denaro contante, frutto secondo gli inquirenti, dell'attività di spaccio. In un'altra invece dove c'era la moglie di uno dei due fratelli non c'era nulla, ma l'atteggiamento sospetto della donna ha indotto gli agenti a proseguire le ricerche e così in altri locali. In disponibilità della coppia sono stati ritrovati altri 23 mila euro e altri involucri in cellofan contenenti cocaina. Alla fine è stato sequestrato quasi mezzo chilo di droga che avrebbe fruttato nel mercato dello spaccio circa 40 mila euro. I tre sono stati tutti arrestati. Noi come Arezzo abbiamo una posizione baricentrica, per cui che cosa succede? Che finora i colpi fatti e messi a segno nella provincia di Arezzo o comunque ad Arezzo venivano dall'autostrada, cioè persone che entrano in autostrada e che poi subito dopo aver colpito possono fuggire. Questa volta parliamo di persone stanziali, cioè presenti ad Arezzo, quindi ci offrirà sicuramente spunto per dedicarci anche a persone presenti in Arezzo. Questa non è una bella notizia, ma sicuramente molto importante per il proseguo delle attività di indagine.